Ciao ragazzi, oggi doveva uscire un video su Among Us che non è uscito perché i server mi si sono buggati e quindi non mi faceva entrare in nessuna partita E per sfogarmi ho deciso di fare un bellissimo troll ai miei amichetti qui su Minecraft E vi faccio vedere da questa parte che cosa ho intenzione di fare Praticamente ho deciso di fargli uno scherzo con una casa invisibile Mi bastano due cose, ovvero una nether star e una pozione di invisibilità Adesso guardate la magia Oh, oh Tadà E ho praticamente questo invisible casa uovo E se io adesso lo metto per terra Mi farà un chunk di cosettina verde che me lo farà vedere E se io adesso ci costruisco qualcosa dentro E butto il diamante Sparisce Ed è questo lo scherzo che voglio fare ai miei amichetti Quindi entriamo sul discord Ciao ragazzi, tutto ok? Che sono Sì, sì, tutto ok Stavo solo pensando Curo sei a casa? Sì Ho deciso di cambiare casa Cioè mi sembra ora Ora cosa? Ma sei scema? No, mi sembrava di cambiare casa Insomma, mi sto annoiando Cioè abbiamo fatto quasi tutto ormai Avevo fatto un giro ingiurello Vuoi rompere il matrimonio? Eh sì, dai Tanto insomma Non penso che neanche Roby si infastidisca, ok? Dai non ti preoccupare Prendo giusto un paio di cose No, no Ma perché? Ma perché sì Dai, lo faccio ormai Dai, non ti giuro Ok Togli la piatta No Ti vanno Jennifer Jennifer, non fai neanche la voce Ah, stai tranquillo Tu pensa che Togli sta cavolo di creati Non mi interessa nulla No Fatti i bravi, dai Per favore Togli sta cavolo di game mode Ok, l'ho tolta, l'ho tolta Mi puoi picchiare adesso, contento? Ok, ti controllo, vai Ok, vabbè Io ho preso il legno che mi serve Quindi, cioè Non ti preoccupare Ma vabbè L'importante è che non si staccava di game mode Perché tutti e quattro Non la stanno usando Poi mi sono messo anche di impegno Per fare la casa Sì, infatti Non hai ragione Non la uso più E mi faccio la casa da sola, ok? Comunque, dai Ascolto un po' di musica Nel frattempo che costruisco Lo sapete che ci metto molto Dai, a dopo Ok, ragazzi Praticamente Fili non si è accorto Che ci siamo messi in game mode E niente Dobbiamo iniziare a fare la nostra casa Ovviamente adesso Qui Se io schiaccio Ci crea il nostro Posto invisibile, ok? Quindi adesso Niente Mi metto Sì Via dalla mia proprietà Però ma che stai facendo? Psst Guardo la tua Cosa Che in confronto Nella nostra big home È uno scarto C'è uno scarto gigante Sì, sì L'ho capito che non ti piace Non serve Insultarmi il casac Così tanto, eh Passi dalle stelle Le stalle Non ti sopporto Vai via da casa mia Sciò, 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 sciò No Continuerò a fare parkour Ok ragazzi Abbiamo quasi finito Mi manca solo l'interno E basta Ok ragazzi Abbiamo appena finito Adesso ci rimettiamo in survival Aspettate un attimo Loro non dovrebbero esserci Che figli è lì Puro non lo so Penso sia in casa Ok Ve lo faccio vedere Molto velocemente Va bene La casa nostra è sparita È bellissimo E niente Adesso andiamo da loro E gli facciamo sapere Che abbiamo costruito La nostra casa Raghi Genio Ho perso Ho perso Ho perso il laccio Della pecora Ma come la tengo No Vabbè chiudi la casa Cos'è quello proprio Lì in fondo È casa mia Non ho capito Oh Hai fatto la casa tua? Sì Con la creative Visto che Me la vuoi proprio Far esclare No Picchiami Picchiami Vedi Non sono in creative Ma magari se cambiate Non me ne sono accorto Non ti sembrano Vai Entri in casa Vediamo Mi piace Ovviamente Ovviamente Qua ci sono i letti Aspetta Relo da un attimo Il chunk Che non vedo Dove vedi il letto? Geni La casa è scomparsa Ma che vuol dire scomparsa No no Ragazzi è lì Geni Guarda Io la vedo Guarda Vedi qualcosa Eh no Sei dentro la casa Ragazzi Reloadate i chunk Lo sto raccendo tutta l'ora Venite qui un attimo Reload all chunk Forse se entrate in una costruzione Poi Reloadate da un'altra parte Più lontano Reload ora Prova Fatto La vedete adesso Ok Almeno vediamo sto brobio di casa Ah ok Qua c'è il letto Qui c'è la cesta Dai L'interi non sono Vero Non sono fatti male Comunque Perché è scomparsa la casa? Già no Ci stai prendendo in giro Non si è scomparsa la casa No aspetta Sai una cosa È un problema di chunk È un problema di chunk Io li vado qui È un problema di chunk Riardo Ritorno Non c'è Stai proprio Ma che cosa ne so Io la vedo ragazzi Provate a farlo qua Ho addirittura le shaders Ok magari la casa mia Che magari porta fortuna Ci fa vedere la casa Guarda Cioè è lì ragazzi Non c'è niente da dire Ok Funziona Sì la vediamo Ah vabbè Non so che cosa dire Sai che non mi piaccia Sai che non mi piaccia Quindi mi hai messo plugin Hai messo qualcosa Ragazzi siamo in una vanilla Non c'è nessuna moda No Sai cos'è Lo so io Cosa? Lo so io Tower day di fast 7-0 Quando passiamo È normale che non la vediamo Ma in chat lo vedresti no? C'hai anche ragione Quindi Ti fa vedere slash wand Non c'è niente Guarda Slash wand Sì l'ho già provato Ti stai trovando? No Ragazzi avete un problema voi Non so Prima non la vedevo Ora la vedo Vabbè Vieni Vieni Guarda Cosa metto Entriamo Qui nel monoporto Guarda che sparisce Uno Due Tre Ragazzi Siete scemi Guarda Guarda Fili Aspetta Sai perché? Sai perché? Perché prima ho cliccato la cesta La chiudo Scompari No Vieni 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 Sicuramente si è bagato con la cesta Ora entriamo nella casa Guarda quando siamo da casa Non c'è la casa Guarda perché la signorina fa qualcosa Guarda Uno Due Tre C'è la casa C'è la casa C'è la casa Cosa sta succedendo a sto mondo? Vieni Ragazzi E l'importante è che adesso la vedete Sei già messo a pioggia Talmente sto mondo E ci vuoi trollare Dillo No vi sto trollando Ve lo giuro Io la vedo Se siete bagati Già l'altra volta mi hai tornato con il cane Io ho dovuto cambiare casa Sì ma quello era modato Questo no Sì è la vanilla Vabbè Vado a prendere i diamanti Ok Io resto in casa tua Se scompare te lo dico Ok Ok Eh niente Vado a prendere dei diamanti E appena li trovo Rimetto nelle ceste Ok ragazzi Mi sono messa in creative Spero che Fili non lo sappia Che non abbia letto la chat Però mi sembra abbastanza impegnato Con casa mia E anche il curo Perché Li abbiamo trollati per bene Pensero che sia un glitch Dei chunk di minecraft Ok Noi adesso andiamo a prendere I diamanti E sapete che cosa faccio? Prendi i diamanti Li metto dentro casa E faccio sparire la casa Poi do la colpa a loro Adesso Sì ho già preso i diamanti In realtà sto facendo solo scena Per far vedere che sono state miniera E niente Aspettiamo 5 minuti E poi torniamo da loro Ok Stiamo salendo Adesso mi sposto Mi sposto su Discord da loro E vediamo che cosa hanno da dire Stanno ancora guardando la casa Assurdo Allora Raghi Se io riesco a Entrare dentro la casa Ok Chiudo gli occhi magari Non guardo Esco dalla casa Mi giro E c'è ancora Ma perché? Ma che problemi avete? Ragazzi Una cosa normale Ascolta Io metto i diamanti qui Ok Però devo trovare anche ferro Ah hai trovato diamanti? Che culo Però Vado a cercare anche ferro Quindi Se riesci a trovarmi Dere pezzettini Magari mi faccio un bug E ti riesco a fare Sì sì Mi raccomando Per la peccola Ah vabbè Tanto io vado in miniera Adesso Devo scavare un botto Quindi ci vediamo dopo Dai Ciao Allora se riesco a rientrare No funziona Ok ragazzi Prima di andare in miniera Aspettiamo un attimo Sono ancora lì Ok Invisibile Invisibile Aspettate che torno Ah ragazzi Aspettate Ho perso Cioè Ho finito il piccone Non è che ne avete un altro Allora Ragazzi Dov'è casa mia? È sparita ancora È sparita ancora Ed è colpa tua Non è mai sparita Casa mia Era sempre stata qui O l'ho sempre vista qua Jennifer Da prima che ci stai facendo Uno scherzo O qualcosa Ci stai facendo Quindi ho messo i diamanti lì Ma cosa vuol dire Mi interessa i più diamanti Ho capito Ho capito come è la storia È colpa di curo Certo Non voleva casa mia Perché vuole che abito lì E quindi l'ha distrutta Mi stai facendo anche pure impazzire Pure te Sei scema Certo che potevi essere Più gentile almeno No Ma gentile cosa? Davvero Distruggermi la casa Almeno i diamanti Me li dai per favore Sei andata 20 secondi lì E sei tornata Come faccio? Con quale legge della fisica Riesca distruggerti la casa? Era fatta in due Jenny C'è stato almeno 5 minuti Salire e scendere le scale Non ha un neurone Jenna Non c'ha un neurone Non sa come costruire un'ascia Pensa potessi farla È una pala No sentite Resta è tanto che qua A casa mia non c'è E prima c'era E non è mai sparita Siete solo voi Che avete il problema Quindi o me l'avete fatta sparire voi O me l'avete fatta sparire voi Questa casa Aspetta 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 Vieni un attimo Jenny Vieni Ho capito Vieni 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 La tua casa è bellissima Oh Che casa Jenny? Eh? Perché sono invisibile? Sono invisibile Sono invisibile Non è vero Jenny non ti vediamo Vuoi la foto su whatsapp? Eh no guarda Io mi vedo E non vedo la casa Noi non vediamo Né la casa di te Corro via Corro via Era uno scherzo? Era uno scherzo? Siete stupidi? Mi siete amati? Dove fate vedere le vostre facce? Che stupidi cretini? E io che ci ho messo Che tanto tempo Per capire Come si pariva Quella casa Che stupidi idioti Eravate così Oh ma saranno i chunk Sì fili fili Guardate Nooo E stavo pure registrando Quindi salutate il video Ciao ragazzi Ciao E vi ringrazio tanto Per i 50.000 Ci siamo arrivati E niente Spero che questo trat Vi sia piaciuto Allora adesso Sono due scemi Mi voglio bene Lo sapete Verro? Ragazzi Ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Allora Ch Scream子 Grazie.